Il futuro della caccia è nelle mani dei giovani che tra tradizioni e cambiamenti costituiscono il ponte più importante per guardare al domani. Scopriamo con FederCaccia il loro impegno in una gestione corretta e sostenibile della nostra passione. Spero che il cacciatore possa diventare sempre più centrale come figura in quello che è la gestione dell'ambiente. Il futuro della caccia dal 20 settembre ogni mercoledì all'Evento 1 su Caccia TV. Scopriamo con FederCaccia il loro impegno in una gestione corretta e sostenibile della caccia.